patti è una che non sbaglia un colpo una grande promessa del tennis nella finale del torneo più importante però succede quello che nessuno pensava patti fa tanti errori perde per la rabbia sparca la sua racchetta preferita gliela aveva regalata a nonna con la quale si confina anche ora che non c'è più vuole lasciare il tennis fare fatte vere di ragazze invidiose e la delizione di mamma e papà per fortuna ad esserle vicini ci sono un vecchio cane pasticcione un'amica ritrovata il suo coach e il compagno di allenamenti e arriva il giorno di una nuova finale grazie